Vali di tre anni sul miglio, Anthony Leone, Algeria Jet, Antartico Jet, Allegra WF, Ampia Maid e Axel Degli Ulivi. Vi ripeto, è una corsa apertissima ed è così che ricordiamo un amico che se n'è andato. Mezzo meccanico in movimento. Allineamento che va a completarsi. Un po' arretrato Allegra, imitato da Antartico. Via la macchina. Chiusura. Si lotta e si lotta alla grande per il comando all'attacco della piegata con Axel Degli Ulivi a largo rientrato da Ampia Mede e soprattutto Algeria Jet. Ed è Algeria che va al comando. Problemi così al completamento della piegata con un 13-1 a partire. Ampia Mede continua. Si fa anche un po' di spazio e Manini Dulci potrebbe, dovrebbe parcheggiare. Quarto iniziale 27-9 e parcheggia la Ganymede di D'Alessandro. Viene via subito Anthony Leone che punta in avanti e si trascina Allegra al comando Algeria Jet. 600 omicidiali, 43-7 da 1-12-8. Ed Anthony Leone gradatamente si migliora e si trascina la Baren di Minopoli. Lì ha il completamento del mezzo miglio iniziale. Mezzo miglio che se ne va nell'ordine del 59-58-9-15-2 di frazione. Tre pariglie si sono formate, è venuto via anche Axel Degli Ulivi. Cavalli sul penultimo rettilineo, Axel pedina Anthony Leone. Chilometro, sta già passando in leggero vantaggio Anthony Leone in 14-1. Passa Anthony Leone e così va al comando ma viene via con altra borgata Allegra. E la WF di Varenna aggredisce Anthony Leone e la sta già superando. Ah, vai lì al completamento della curva finale. Vi avevo detto che c'erano grandi emozioni in questa corsa. Passa, la WF allunga e se ne va. E così Allegra è in vantaggio per la gioia della ditta, fratelli, famiglia Farneti. Facile la WF. Signori, che crescita questa Barenna, che crescita, che crescita. Chapeau al team Minopoli, Allegra, Farneti. 1,57, 1,13, 1. Signori, parla per il momento un'altra lingua, plasmata a dovere, rispettata a due anni, a tre anni. Ha fatto vedere veramente di che pasta è e veramente di che qualità. Giusto la croce che si fa a Mario Minopoli per ricordarsi un amico. E per il momento è tutto. E ora in premiazione, signori, con un ricordo ancora più straziante della famiglia fatale che ricorda Pietro Paolo. Linea allo studio.